Lo stadio, come ha detto lei, dà oltre 20.000 spettatori. È uno stadio norma UEFA, quindi permette di ospitare anche partite internazionali, quindi sia nazionale della nazionale italiana che partite internazionali. Lo stadio, un po' come molte delle operazioni che vengono fatte oggi in Italia, lo stadio prevede per la remunerazione dell'investimento, che è notevole, che è oltre 60 milioni, prevede una parte di remunerazione attraverso esercizi commerciali, ricettivi, potrebbe prevedere, non lo prevede questo, ma la norma prevede anche esercizi alberghieri e prevede questo stadio anche spazi per ristorazione e museo, perché di fatto sappiamo bene che lo stadio non si ripaga attraverso i ricavi da match day, quelli servono unicamente per remunerare la squadra, per remunerare la squadra di calcio, quindi i calciatori, per cui il cuore dei ricavi di uno stadio non può essere il match day, ma deriva da tutta una serie di attività collaterali. Lo stadio sfrutta una norma che è stata costituita appositamente per impianti sportivi, per ristrutturazione e realizzazione di nuovi impianti sportivi, che prevede proprio la possibilità di esercizi a condizione che siano esercizi non residenziali. La durata dell'operazione è più o meno in media con le altre operazioni che stanno in questo momento caratterizzando gli altri stadi in Italia, è circa 90 anni la durata della concessione, naturalmente poi ci sarà una gara pubblica e potrà anche essere ribassato questo valore. I rendimenti dell'operazione anche sono, le remunerazioni sono in linea con le altre operazioni, degli impianti sportivi, anzi per la verità sono leggermente al di sotto della remunerazione media in Italia in questo momento di altri impianti sportivi, per cui l'operazione sembra equa e le condizioni per remunerare lo stadio ci sono, quindi l'operazione a mio avviso dal punto di vista strettamente tecnico dei costi, dei ricavi è un'operazione che sta assolutamente in piedi alle condizioni attuali. Siamo in una fase ancora intermedia nel senso che noi stiamo discutendo su un progetto di fattibilità, una volta avuto il via libera da parte del Consiglio Comunale, entro pochi mesi il proponente, che è l'US Avellino, dovrà presentare il progetto definitivo. Sulla base di questo ci sarà una nuova conferenza di servizi decisoria che potrà a sua volta modificare alcune delle condizioni dello stadio e poi si tornerà comunque in Consiglio Comunale. Una volta avuta l'approvazione definitiva, quindi parliamo ancora di altri sei mesi in media, avuta l'approvazione definitiva ci sarà la gara pubblica a cui potrà partecipare chiunque. A base della gara di evidenza pubblica si metterà il progetto, così come è uscito dall'ultima versione del Consiglio Comunale della conferenza di servizi decisoria, quindi quella che ci sarà tra qualche mese. Per cui ecco, anche dal punto di vista normativo, la norma che citavo prima, che è quella sugli stadi, si riversa poi nel codice dei contratti pubblici, quindi anche dal punto di vista della legittimità normativa in un percorso assolutamente coerente, lineare, secondo quello che prevede oggi il codice dei contratti, per cui ci sarà la gara pubblica a cui potrà partecipare poi chiunque.